Nelle onde corte del cambiamento ci sta ovviamente la guerra e le sanzioni economiche, che vanno però ad aggiungersi a delle onde lunghe che già spingevano verso una deglobalizzazione, perché la guerra fredda era già cominciata tra Stati Uniti e Cina, o forse un ripensamento della globalizzazione, quel neologismo che si usa molto oggi in America, lo ha ripreso addirittura la ministra del tesoro dell'amministrazione Biden, che è friend shoring, cioè rilocalizzare nei paesi amici, è uno dei temi che sottopongo alla riflessione di un territorio, di un tessuto economico imprenditoriale che è molto estroverso, molto globalizzato, ma che forse deve ripensare il concetto di globalizzazione e ristudiare le mappe geografiche e geopolitiche di questa globalizzazione.